il signore sia con voi dal vangelo secondo luca in quel tempo l'angelo gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di davide chiamato giuseppe la vergine si chiamava maria entrando da lei disse ti saluto piena di grazia il signore è con te a queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto l'angelo le disse non temere maria per chi hai trovato grazia presso dio ecco concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai gesù sarà grande e chiamato figlio dell'altissimo il signore dio gli darà il trono di davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di giacobbe e il suo regno non avrà fine allora maria disse all'angelo come è possibile non conosco uomo le rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te su te stenderà la sua ombra la potenza dell'altissimo colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di dio vedi anche elisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile nulla è impossibile a dio allora maria disse eccomi sono la serva del signore avvenga di me quello che hai detto e l'angelo partì da lei parola del signore come un segno meraviglioso e discriminante appare la vergine maria nell'economia della salvezza noi penseremmo certamente per le sue per le doti della sua grande purezza della sua sempiterna verginità per la sua obbedienza al signore che l'ha chiamata e l'ha investita di un compito così grande ma la grandezza di maria e la sua dimensione discriminante come dicevamo nella dell'economia della salvezza ci aiuta a distinguere bene ciò che è da dio da ciò che appartiene solo alla mentalità del mondo e come è forse un ideale la storia e la vicenda storica e metastorica della vergine maria no dobbiamo oggi attraverso la contemplazione di questo mistero della sua immacolata concezione guardare alla vera definizione di tutta la sua esistenza perché lei è nata senza il peccato originale perché il peccato originale ha avuto tanto presa sul genere umano e ha risparmiato quest'unica donna come dio ha potuto pensare tutto questo per lei allora la parola di oggi ci aiuta ad entrare in questo mistero infatti il primo quadro che ci presenta è la situazione dell'uomo peccatore cioè il peccato originale chi ha scritto queste pagine chi ha percepito la sapienza di dio come una realtà che interpreta la storia ha pensato se il peccato per l'uomo è così con naturale evidentemente è dal principio da quel principio in cui dio ha chiamato l'uomo a sua immagine e somiglianza per affidargli un progetto il progetto di chi di dio ma l'uomo lo sappiamo proprio con quel peccato volle in qualche modo approfittare di questo progetto di dio conoscerlo anzitempo per produrre qui ed ora tutti gli effetti che questo mistero avrebbe prodotto al tempo opportuno non lo riconosci quest'uomo sei tu siamo noi l'uomo che vuole ora quello che gli sarà donato nel tempo è l'uomo che non ha la capacità della speranza cioè dell'attesa del compimento delle cose qual è la sorte di quest'uomo peccatore è la sorte che noi anche sempre pensiamo un po paganamente secondo la quale se le cose cominciano bene ora finiranno male domani oggi sono giovani sono belle prestanti oggi sono nuove nuove sono perfette ma diventeranno sporche e rovinati e destinati a decadere non pensi forse così della tua natura non pensi forse così dei progetti che hai fatto non pensi così della storia del mondo e mi vuole dirlo purtroppo pensi così anche della chiesa che sia una realtà che va a corrompersi a rovinarsi e tutto quello che Dio ci ha dato è destinato in qualche modo a perdersi allora dentro questa visione dell'uomo dominata dal peccato dal sospetto del peccato originale appare un segno grandioso dirà l'apocalisse quello stesso segno che Dio aveva additato agli uomini in questo cosiddetto protovangelo di genesi 3 il momento in cui cioè Dio dice all'uomo ma io io ho pensato a una donna che schiaccerà il capo di questo pensiero serpeggiante che viene a indurti in tentazione che ti fa che ti fa cadere nel sospetto nel peccato del sospetto allora perché questo perché questa donna ha questa importanza certamente chi scrive questa pagina si riferisce alla stirpe dell'uomo all'umanità che riuscirà a schiacciare la testa al serpente ma di questa umanità c'è una figura pensata anzitempo da Dio capace di allontanare il sospetto l'unica che ha potuto dire senza conoscerne neanche il motivo a Dio ecco sono la serva del signore che vuol dire non ho sospetti non ho dubbi lo so che questo è impossibile secondo l'umanità ma io ti appartengo allora guarda bene come è importante questa figura da una parte ti accorgi che nel tracciato biblico nella scrittura Dio nel momento in cui l'uomo pecca già dice ma io però verrò a visitarti e ti salverò dunque anche se tu stai cadendo in basso io far creerò una strada che ti faccia risalire verso il cielo dall'altra parte questa donna ci ci fa comprendere che tutta la storia è destinata a vivere questo questa santificazione questa possibilità di riscatto rispetto al peccato non è forse la stessa donna che con Gesù alle nozze di Cana avendo chiesto a suo figlio non hanno più vino come dire fai qualcosa in un matrimonio tra l'umanità e la divinità che si sta sciupando perché il vino è venuto meno perché la sapienza non c'è più forse proprio come la nostra umanità in questo tempo invece di far pensare al maestro di tavola che ormai è il tempo del vino peggiore la Vergine ottiene questo prodigio lei è il segno della promessa di Dio che deve compiersi lei è la prova della fedeltà di Dio al progetto del genesi cioè del protovangelo dell'annuncio della salvezza che si sarebbe operata che annuncia cioè a questo matrimonio che il vino migliore deve essere ancora versato allora capisci perché è discriminante ed è anche profezia incarnata la Vergine Maria perché tutte le volte che noi guardiamo lei lei costantemente ci rimanda a contemplare questa salvezza che ancora deve compiersi tu dirai ma come si è già compiuta anche noi sull'altare ne celebriamo la grandezza si è già compiuta questa salvezza nella resurrezione di Cristo ma deve compiersi perché Dio padre non ha atteso solo la obbedienza del suo figlio ma l'adesione a questa obbedienza da parte di tutta l'umanità il sacrificio di Cristo non è per se stesso il sacrificio di Cristo è per te dunque l'effetto salvifico di questo sacrificio sta aspettando che anche tu aderisca che anche tu faccia parte di questa di questo grande riscatto allora giustamente tu ti avvicini e dici eh sì però io non sono come la Vergine Maria io ho peccato io ho sospettato io mi sono allontanato da Dio io non sono niente non sono nessuno sono pieno di colpe sono pieno di errori allora la il protovangelo ti direbbe ma la tua sorte è destinata a schiacciare la testa di questo serpente e Maria ti ricorderebbe che ancora un vino per il tuo matrimonio con il Signore celebrato fin dal battesimo deve essere ancora compiuto e che quel vino buono sarà versato alla fine della tua vita dunque è lecito attendere dunque è buono sperare perché è scritto nella speranza saremo salvati in questa attesa saremo incontrati da Dio dunque quando guardiamo il volto della Vergine Maria non guardiamo il volto di una Dea tutta pura guardiamo il volto di una madre rassicurante che sa che al termine della nostra esistenza è legato anche un progetto destinato ad aprirsi a compiere tutte le nostre speranze e a riempire di gioia tutti i nostri desideri se abbiamo provato un langore così grande che ci ha fatto deviare a destra a sinistra in tutta la vita guardando a lei sappiamo che una che un buon pane che un buon vino saranno serviti al termine perché noi non ci sentiamo perduti lasciati abbandonati a noi stessi guai a quegli uomini che si mettessero a fare gli uccelli del malaugure in questo tempo noi siamo profeti e annunciatori di una vittoria sul male alla quale anche noi siamo chiamati a partecipare una vittoria promessa dal sangue di Cristo sulla croce annunciata dalla fedeltà della vergine maria oggi per noi è la speranza di cui ci nutriamo non venire mai meno non avere mai paura qualsiasi cosa accada sia al dato Gesù Cristo padre santo e misericordioso noi ti ringraziamo per averci donato la fulgida stella della speranza la vergine maria madre del tuo figlio che tu hai preservato dal peccato originale in vista dell'opera che avresti portato a compimento nella redenzione attraverso il sacrificio di Cristo facendo questo tu hai mostrato alla nostra vita che nulla può separarci dal tuo amore che neanche il nostro peccato la nostra fragilità possono impedirci di partecipare all'edificazione del regno rendici consapevoli di questo dono oggi in questo giorno glorioso e aiutaci a collaborare con la tua grazia per questo ti preghiamo ti preghiamo padre santo e misericordioso per il papa e per tutta la chiesa tu hai costituito la tua sposa come un banchetto nel quale tu vorrai riversare il vino migliore al suo termine quando tutti saranno ricapitolati in Cristo riconosciuti in lui come l'umanità redenta sostieni la tua chiesa in questo tempo fa che non soccomba davanti ai molti pericoli per questo ti preghiamo padre santo e misericordioso perdonaci per aver dimenticato la grande vocazione alla quale tu ci hai chiamato quella di essere profeti in questo tempo in questo mondo perché tutti gli uomini sappiano che nulla è mai perduto perché nulla è impossibile a te possano guardare insieme a noi al volto della vergine maria per ricordarsi l'annuncio dell'angelo e la grande missione che tu ci hai affidato per questo ti preghiamo padre santo e misericordioso hai convocato i tuoi figli davanti a questo altare perché ascoltassero la parola della salvezza perché si nutrissero della vita eterna perché conoscessero la bontà e la bellezza del tuo disegno rialzali dalle loro paure sostienili in questo momento di prova lenisci le ferite che hanno ricevuto a causa della perdita dei loro cari sostienili perché non vacillino mai per questo ti preghiamo ti prego padre santo per i doni che hai fatto alla mia vita nel sacerdozio per l'aiuto che mi dai in questa opera pastorale ti prego per questi tuoi figli mettili a riparo dal maligno da tutte le sue seduzioni ricorda loro che l'umanità redenta ha schiacciato la testa al serpente antico guariscili da ogni male guariscili da ogni maleficio possano servirti in santità e grazie tutti i giorni della loro vita per cristo nostro signore il signore sia con voi dal vangelo secondo luca in quel tempo l'angelo gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di davide chiamato giuseppe la vergine si chiamava maria entrando da lei disse ti saluto piena di grazia il signore è con te a queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto l'angelo le disse non temere maria perché hai trovato grazia presso dio ecco concepirai un figlio lo darai alla luce e lo chiamerai gesù sarà grande e chiamato figlio dell'altissimo il signore dio gli darà il trono di davide e suo padre regnerà per sempre sulla casa di giacobbe e il suo regno non avrà fine allora maria disse all'angelo come è possibile non conosco uomo le rispose l'angelo lo spirito santo scenderà su di te su te stenderà la sua ombra la potenza dell'altissimo colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di dio vedi anche lisabetta tua parente nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile nulla è impossibile a dio allora maria disse eccomi sono la serva del signore avvenga di me quello che hai detto e l'angelo partì da lei parola del signore abbiamo aperto questa eucaristia con questa chiave di lettura l'immacolata concezione della vergine contraddice il nostro modo di leggere la storia gli eventi e l'efficacia anche della grazia perché noi facciamo un'esperienza nella nostra vita delle cose che partono bene e finiscono male che nascono floride e poi pian piano avvizziscono anche lo specchio ce lo racconta credo tutti i giorni e così pensiamo il mondo e così pensiamo tutto quello che ci riguarda addirittura abbiamo proiettato questa visione nera macabra anche sulla sulla chiesa pensiamo che una chiesa delle origini fosse più pura della chiesa che viene è il nostro modo di vedere sostenuto e informato dalla logica del maligno da quel maestro di tavola che alle nozze di cana si stupì del vino buono versato alla fine perché nessuno lo farebbe mai e quel maestro di tavola che il maligno pensa che anche dio non verserà un vino buono alla fine ma verserà un vino avariato che farà male a tutti quelli che lo berranno e noi a questo purtroppo abbiamo creduto allora su questa poca fede su questa visione nera della storia brilla invece una stella un astro luminoso è la vergine maria perché perché quando l'uomo chiamato ad abitare le epoche le ere geologiche che avevano l'avevano preceduto ad abitare la storia quando all'uomo è stata data la possibilità di usare del proprio libero arbitrio costruisene appropriato per cercare subito la ragione delle cose e questo è a suo detrimento e di tutto il genere umano il peccato originale è un modo di pensare l'origine di ogni peccato o meglio l'origine della nostra del nostro desiderio della nostra bramosia di prendere subito quello che ci sarebbe dato gradualmente la conoscenza forse non è graduale eppure noi abbiamo concepito un modo di conoscere immediato basta un click basta entrare in un mondo in un portale e ci sembra di avere il mondo nelle mani questa è la superbia dell'uomo ma quando l'uomo che avrebbe potuto glorificare il disegno di dio e obbediente alle sue alle sue leggi e non l'ha fatto cadendo in questo peccato e generando così un criterio che dio non aveva pensato il sospetto e consegnando questo sospetto a tutte le generazioni in quel momento quando di avrebbe potuto definitivamente chiudere con la sua creazione egli ha posto un segno una donna vestita di sole con la luce con la luna sotto i suoi piedi che schiaccia la testa a questo pensiero serpeggiante che ha osato immischiarsi nella relazione tra l'uomo e la donna così come dio l'aveva pensato sapete cosa vuol dire questo vuol dire che se l'uomo parte male dio gli riserva una speranza l'oggetto di una speranza che si aprirà nel tempo questo vuol dire che se anche tu avessi una lettura come dicevamo all'inizio di della tua vita della storia come qualcosa che va al macero che va a finire male dio invece ha posto una promessa una promessa che precede l'esperienza di questa degradazione e di questo male questa promessa come un buon seme piantato nella terra buona è destinata a germogliare al tempo opportuno allora nel protovangelo così come è chiamato il capitolo 3 della genesi quello che abbiamo letto l'annuncio della vittoria della stirpe umana dal grembo di questa donna che può schiacciare veramente la testa al serpente questo protovangelo posto all'inizio della storia nella preistoria della speranza diremmo questo protovangelo trova la sua collocazione in un momento opportuno della storia quello che noi chiamiamo la pienezza del tempo e in quella pienezza del tempo finalmente quel seme gettato all'inizio un seme di speranza germoglia e il fiore di questo germoglio è la donna la piccola donna di nazareth che non avendo alcun sospetto preparata a dire la sua dare la sua risposta a dio nel momento in cui l'arcangelo gabriele le ha annunciato che l'economia sarebbe cambiata che finalmente dio si sarebbe preso cura di tutti gli uomini nonostante peccatori in questo momento la vergine maria può dire eccomi io sono la serva del signore e dicendo questo ha ridato all'umanità la speranza che finalmente la storia conoscerà un esito positivo che finalmente le cose intraprese dall'uomo ad arriveranno in un porto sospirato in un porto di giustizia e di pace che finalmente il progetto di dio non si non si rovinirà più non imputrirà più come abbiamo pensato noi secondo la suggestione del maligno ma fiorirà di nuovo ma l'aveva detto isaia l'avevano detto i profeti una strada appianata lo diciamo anche nell'esolo una una su una folta vegetazione su quella palude stepposa del nostro peccato che ricasco a questo nella nostra vita è importante sai perché perché pure nella tua vita è stato seminato questo germe al battesimo al battesimo dio sapendo che avresti peccato che saresti invecchiato che avresti dubitato che avresti sospettato di tutto aveva posto un germe destinato a sbocciare se lo coltivi ne gusterai anche il frutto ma se non riesci a coltivarlo almeno riseminalo nella generazione che viene così che pian piano noi possiamo ricostruire l'uomo nuovo quello che è capace di grandi attese quello che non si scandalizza del deteriorarsi delle cose ma continua a sperare contro ogni speranza direbbe san paolo quell'uomo nuovo non si lascia più sedurre dalle logiche del maligno quell'uomo nuovo vede la storia andare verso un destino glorioso capisce che la vergine benedetta ci ha ottenuto dal suo figlio il miracolo delle nozze di cana in cui il vino migliore sarà versato alla fine quell'uomo nuovo ci fa cantare stasera in questa celebrazione con il salmo che forse ci è passato così un po sotto sotto gli occhi senza cantate al signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi cantiamo al signore un canto nuovo perché compirà prodigi ora noi non siamo i testimoni di un messaggio che si è deteriorato noi non siamo testimoni annunciatori di una speranza che è andata male che sia variata noi siamo il contenitore di una speranza che deve ancora germogliare che deve ancora mostrarsi questa questa cosa sta aspettando il mondo renditene conto perché di questo a te sarà chiesto conto allora capiscilo oggi non fare più il minagramo non dire più alla gente che ormai tutto va al macero di piuttosto a questa generazione che noi portiamo una speranza che siamo infettati dalla dalla gloriosa resurrezione del figlio di dio che per noi la morte non è più un ostacolo non è più una parola definitiva sulla vita ma è una occasione sperimentalo e raccontalo gustane la bellezza e poi riportala anche nei tuoi ragionamenti con questo mondo che non crede più a niente i cristiani stanno qua per questo per essere luce e sale non per essere uccelli del malaugurio che stanno sempre la indicare quando e come finiranno le cose a noi è dato di celebrare il bene ovunque voglia mostrarsi e in qualsiasi tempo voglia venire a incontrarci questo l'immacolata vergine maria ci ricorda e ti guarda con benevolenza perché lei vede il dono del tuo battesimo e ti sostiene generosamente perché lei sa che questo dono del battesimo può produrre ciò per cui ti è stato dato anche se tu adesso sei in una condizione di peccato di lontananza di freddezza del cuore di aridità come ti piace dire e non riesce a pregare non riesce a credere non riesce a sperare questo seme ormai ti ha raggiunto quando la guardi assumi anche tu quell'atteggiamento tu potrai dire ma ma io non conosco la mia umanità di non conosco uomo dice lei la mia umanità non conosce questa possibilità io ho fatto ne ho avuto nella mia vita solo esperienze negative solo difficoltà tradimenti solitudine grande dolore ma la potenza dello spirito santo scenderà su di te quella che ti è stata data al battesimo e produrrà la salvezza per te e per tutti gli uomini che avrai la possibilità di incontrare in questa storia per questo possiamo dire insieme nel fondo del nostro cuore eccoci siamo noi la chiesa la serva del signore se devi purificarci purificaci se devi lavare i nostri peccati lavali se vuoi perdonarci le nostre infedeltà perdonale ma dacci l'opportunità ce la ottenga la sua grazia la sua fedeltà perché noi possiamo essere tuoi testimoni e profeti in questo tempo di tenebra sia lodato gesù padre santo e misericordioso noi ti ringraziamo per averci donato l'immacolata concezione della vergine maria la sua presenza nella nostra devozione nel cammino della chiesa ci ricorda che ciò che tu ci hai promesso lo realizzerai allora dilata il nostro cuore e rendici partecipi e consapevoli di questo dono di grazia così immenso perché possiamo entrare in questa eucaristia veramente riconciliati e colmi di speranza per questo ti preghiamo ti preghiamo padre santo e misericordioso per il papa e per tutta la chiesa tu hai scelto la tua sposa e il suo pastore perché il mondo fosse rinnovato costantemente della parola della salvezza e dal sacramento della grazia e della riconciliazione purifica la tua sposa rendila degna di questo compito grande di santificare tutta la terra per questo ti preghiamo padre santo e misericordioso guarda anche a noi con misericordia perdona le nostre colpe noi non ti abbiamo testimoniato davanti agli uomini tutte le volte che non abbiamo insegnato loro a guardare il cielo a sperare l'impossibile a sostenere le difficoltà del prossimo a guardare con fede al tuo progetto dacci ora la possibilità nella contemplazione di questo mistero di prepararci anche al natale di nostro signore per questo ti preghiamo padre santo e misericordioso hai chiamato i tuoi figli davanti a questo altare perché conoscano le opere della salvezza che tu hai pensato fin dai secoli eterni perché ascoltando la tua parola convincano il loro cuore e i loro pensieri perché nutrendosi del tuo figlio si sappiano amati profondamente e rinnovati perché abitati dal tuo spirito siano capaci di guarire questa generazione porta a compimento l'opera delle nostre mani per questo ti preghiamo ti prego e infine padre padre santo per questi tuoi figli sollevali da questo momento di afflizione da loro coraggio una parola vera sulla loro bocca forza nel loro braccia speditezza nel loro nei loro piedi possano annunciare la parola della salvezza mettili a riparo dall'ensile del maligno che guarda con sospetto alla storia guariscili da ogni malattia guariscili soprattutto da ogni maleficio te lo chiedo padre santo per i meriti della beata vergine maria immacolata per i meriti della croce della risurrezione della passione del tuo figlio gesù cristo e nostro signore